Allio, buongiorno, bentornati in questo nuovo video. Ho comprato una bella finestra usata per l'appartamento. Ti ricordi quel muro dove viene la stanzetta e poi la finestra che si affaccia in cucina? Ecco, invece di farla fare su misura, ho comprato una, diciamo, più o meno delle misure che volevo. Siccome è usata, è da pulire, ti faccio vedere questa macchina a vapore, quali altre applicazioni può avere. Se non l'hai già visto, ti metto qui sopra in descrizione alcuni video riguardanti questa macchina a vapore, sia della sanificazione sui sedili della mia macchina, ma anche della pulizia del vecchio frigorifero. Nel frattempo che si scalda l'acqua nella calda, passiamo un po' di detergente qui, giusto per ammorbidire un po' la sporcizia e poi ci diamo da fare. Qui puoi trovare video interessanti sull'agricoltura, sull'altra mia passione che è la pesca, su Fai da te e molto altro. Considera l'iscrizione per supportare il canale, tanto è gratis. Per prima cosa ammorbidisco con un detergente tutta la sporcizia, tutta la finestra, poi applico questa testina di nylon avanti alla pistola a vapore e inizio a sciogliere tutta la sporcizia. In questo caso, in questo punto, c'era della colla, come se ci fosse stato un adesivo o comunque qualcosa, una scritta e quindi con questa testina riusciamo a lavorare per bene. Anche in tutte le fessure si riesce a pulire veramente in modo più che soddisfacente. Poi sempre col detergente sulla superficie della finestra, vetri, telaio, con questa spugnetta un po' aiuto ad amalgamare il prodotto e a togliere qualche sassolino, qualche sporcizia un po' più in rilievo. Panno microfibra e pistola a vapore, raduniamo tutto lo sporco e da dietro teniamo già asciutto. Anche in questa piccola fessura qui del telaio si riesce a pulire veramente bene. Vedi come raduna bene lo sporco? La sporcizia vicino alla guarnizione dove batteva l'acqua veramente era tantissima terra e qui abbiamo lavorato un po' di più. Poi con questo accessorio, una spazzola a tergivetri, si riesce a tirare già l'acqua giù e a sciogliere la sporcizia in una sola passata. Mi piacerebbe mostrarti questo accessorio anche in un'altra occasione, magari con delle vetrate più grandi. Risultato finale abbastanza soddisfacente, si riescono a raggiungere tutte le fessure. Sotto le guarnizioni pure è veramente venuto uno spettacolo tutto intorno, vicino alle cerniere, la bulloneria. Poi il vapore è disinfettante, guarda qui com'è bello pulito. Il telaio, la mostrina, insomma. Sono veramente soddisfatto di aver comprato questa macchina, si possono fare tantissime cose. La prossima volta vediamo di trovare qualche altra applicazione per usare questo generatore a vapore. Io penso che il risultato, rispetto a come era prima, è molto più abbordabile. Poi una volta montata daremo le rifiniture finali. Link sotto in descrizione, ti metto tutti i video inerenti a questo generatore di vapore. Iscriviti al canale se ti è piaciuto questo video e ci vediamo sempre alla prossima. Ciao!